ciao fiorellini ciao fiorelline se sentite il rumore è questo qua il ventilatore mamma mia fa caldo da morire perché sono fanno lì non lì oggi facciamo il video dei regali del compleanno iguelino dopo la sigla ci vediamo vi faccio vedere i regali che abbiamo fatto ecco sono ritornata l'ho fatto in ritardo perché doveva arrivare nel pacco di rachele che avete visto nel video del suo pacco infatti doveva arrivare da shay questo qua questo gliel'ha fatto rachele e iniziamo questo qui che gli ha fatto rachele che l'ha comprato su shay il regalo perciò non arrivava non potevo fare il video allora sono pantaloni estivi penso no con queste righe qua bianche con i laccetti qua sotto per stringere sono pantaloni leggeri e carini ok poi invece questo regalo che te l'ha fatto l'isabetta pensavo questo regalo che l'ha fatto l'isabetta sempre da amato vento vediamo se riesco a aprire questo regalo a scotola allora questo è questa tazza appartiene al migliore nonno e la tazza che fa regolazione e sta dentro questa scatola qua allora chiudo così poi chiudiamo così così e l'abbiamo messa dentro poi qui che sta dentro questa è fatta il ragazzo di elisabetta scarcino e questa è una maglietta maglietta ne sa maglietta nera ok 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 e questo qua mettiamo per te questo chi te l'ha fatto l'onora l'onora col compagno un'altra maglietta carina un'altra maglietta carina un'altra maglietta questa è bianca è sportiva questa è della la 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 l'alora c'è dell'atitas perchè c'è il segno qua Ok, qua, io non stavo aspettando a mettere a posto tutto, invece io gli ho fatto i pantaloni, sempre stile, così come avevano fatto i raghele, una specie sportivi, i pantaloni ho fatto con una maglietta, allora, questa è la scelta raghele, questa è la scelta raghele, ecco questi sono i regali cari che hanno ricevuto da noi, penso compreranno, spero che vi è piaciuto e dire quale regalo vi è piaciuto di più che gli abbiamo fatto. Ciao, al prossimo video, mega bacio!